Quindi, come è il fenomeno del bleaching e quando si è iniziato? Il bleaching ha avuto avuto avanti per un po' di tempo, circa il 1980 o così, ma il bleaching succede perché quando la temperatura di acqua è troppo fata. Per fortuna lo sbiancamento dei coralli non è sempre irreversibile. Il bleaching coralli non è morto, ma è ancora vivo. E questo è il mio team e io, come in e cerchiamo di aiutare. E come ti faccio? Abbiamo iniziato. E in questo? Come questo? Molto. 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 È un gesto semplice ma potente.